Io sono un po' stanca perché abbiamo appena finito di girare una delle scene più forti del film però sono contentissima perché è molto molto bello e come vedi in faccia sono distrutta come lo stato d'animo di poco fa E' una delle scene più forti Sì, questa è quella dopo la morte dei genitori inizio film però tutti e due secondo me sono molto bello e poi viene anche il prezzo finale Sia contenta? Sì, è contenta che stava molto bene Hai perso il dente? Sì, si è rotto